Cominciamo con questo primo video a occuparci di un po' tutti gli eventi a cui ho partecipato durante la Milano Digital Week, che si è tenuta e si sta tenendo, per chi sta vedendo subito questo video, dal 15 al 18 marzo 2018. Oggi parliamo di Smart Mobility, ossia tutte quelle tecnologie atte a migliorare il servizio pubblico cittadino e a farlo diventare per l'appunto Smart, ossia connesso e intelligente. Dentro a tutta questa categoria possiamo infatti trovare le auto elettriche, i taxi e le automobili a guida autonoma, le auto connesse con i vari servizi magari relativi al traffico, alla segnaletica stradale, o anche le automobili con dei particolari sensori che integrano delle funzioni avanzate tecnologiche al suo interno, come per esempio la frenata assistita o il mantenimento della corsia. A riguardo di ciò ho avuto l'occasione di ascoltare la responsabile dell'innovazione digitale di Mercedes-Benz. Ma prima di entrare più nel dettaglio dello spunto di riflessione che mi ha suscitato ascoltare le sue parole, parliamo di qualche dato relativo a questo mondo della Smart Mobility e perché è così importante parlarne. Il primo motivo è ovviamente il fatto che le Smart City non sono poi così lontane come pensiamo e all'interno di una Smart City la Smart Mobility è uno dei primissimi aspetti perché oltre a portare dei vantaggi al cittadino offre anche un sistema di trasporti molto più ecosostenibile. Pensate per l'appunto, come certo prima, alle auto elettriche. Ma il secondo motivo è un po' più statistico e riguarda il fatto che la tendenza negli ultimi anni è stata quella che la maggior parte delle persone si sta spostando e quindi di conseguenza raggruppando all'interno delle città. Pensate infatti che già attualmente il 70% delle persone europee si trova all'interno di aree urbane e si prevede che questo trend continui a crescere fino a raggiungere nel 2030 il fatto che il 60% della popolazione mondiale risiederà all'interno di città. Capite quindi che con questa altissima densità di popolazione in uno spazio tutto sommato ristretto rende veramente necessario un intervento sul trasporto di queste persone. Fatta questa premessa e tralasciando alcuni dettagli tecnici esposti dalla responsabile dell'innovazione digitale di Mercedes mi vorrei buttare su una frase che lei ha ripetuto molto spesso che riguarda il fatto che Mercedes crede che nonostante il grande sviluppo che subiranno i trasporti pubblici le persone continueranno a desiderare e ad avere un'auto di proprietà. Ora è ovvio che questo tema è un punto di riflessione e non può esserci una risposta giusta o sbagliata. Mercedes ha detto la propria affermando che l'auto di proprietà continuerà ad esistere anche nei prossimi anni. Io personalmente penso che sarà veramente difficile che una persona che abiti all'interno di una smart city, perché ovviamente questo è il caso che stiamo considerando, abbia realmente bisogno di acquistare e anche mantenere un'auto di proprietà. E dico questo per tre principali motivi. Il primo è che già attualmente nonostante i trasporti non siano assolutamente un'eccellenza nel nostro paese, molte persone che abitano in città importanti, come può essere per esempio Milano, non sentono il vero bisogno di avere un'automobile di proprietà, perché comunque già la metro, per esempio, offre un ottimo servizio per quanto riguarda gli spostamenti all'interno della città. Quindi se partiamo da questo quasi dato di fatto, beh, se i trasporti miglioreranno esponenzialmente come dovrebbe succedere, l'auto di proprietà potrebbe realmente diventare una cosa completamente superflua e solo uno sfizio che magari uno si potrebbe togliere. Il secondo aspetto è il fatto che con l'introduzione di tecnologie smart all'interno dei mezzi di trasporto, pensiamo per esempio alla guida autonoma, renderebbe in un certo senso le automobili o i taxi un posto tutto sommato confortevole e vivibile, come potrebbe benissimo essere il nostro salotto di casa o una biblioteca. E su questo abbiamo la certezza che accadrà in quanto anche la responsabile dell'innovazione digitale di Mercedes ha affermato che il loro obiettivo è per l'appunto quello di far diventare le automobili a guida autonoma una sorta di terzo living. Quindi oltre alla mia casa e al posto di lavoro, un altro posto in cui vivere, quindi fare tranquillamente tutto ciò che ci passa per la testa, sarà per l'appunto l'automobile. E il terzo motivo è secondo me la varietà e la semplicità che tutte queste nuove tecnologie porteranno all'interno dei mezzi pubblici. Ritardi presumibilmente quasi inesistenti, possibilità di prendere taxi autonomi via terra, via cielo, i cosiddetti taxi volanti di cui abbiamo parlato in qualche video passato, oppure anche sottoterra. Pensiamo per esempio all'idea di Elon Musk di creare degli autobus proprio per i pedoni e i ciclisti da spedire in tunnel sotterranei sotto le città. Senza dimenticare tutte le possibilità di trasporto classiche che però saranno intese per esempio come sharing bike o sharing cars, quindi bici e auto condivise che una volta finite di utilizzarle potranno essere utilizzate da chiunque altro voglia. In conclusione quindi secondo me tutti questi tre fattori renderanno assolutamente superfluo possedere una macchina di proprietà. E voi cosa ne pensate?